siamo la squadra più forte d'europa facciamo il calcio più bello d'europa sta attendo guardiola perché il napoli sta arrivando napoli 0 atalanta 3 dove dove gonde antonio gonde dove sei antonio gonde io sono il miglior allenatore del mondo faccio il calcio più bello del mondo dov'è antonio gonde dove sono tutti i gondiani io andrò gonde migliore del mondo attenta 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 antonio che ti scappa il parrucchino sai perché tu sei abituato un po' a scappare quando le cose cominciano un po' a sgretolarsi sa mai che ti venisse la voglia di scappare o ti scappa il gatto morto che è in testa oddio 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 che pomeriggio che pomeriggio ragazzi l'atalanta con questa prestazione maiuscola al san paolo si candida ufficialmente per lo scudetto doppietta di lucman e gol di reteghi che in questa prima parte di stagione sta vivendo un momento magico poi anche l'anno scorso reteghi è partito così poi ha fatto la seconda parte della stagione in infermeria vedremo quest'anno vedremo quest'anno però al momento ragazzi io reteghi continuo a dire che è un buon da niente come attaccante però al momento 11 gol in 11 partite bisogna dargli reato sta andando alla grande adesso dov'era oggi il grande gioco di andò dove era il grande lukaku la caca è tornato la caca la caca kwaraskelia e poi mi dispiace anche per kwaraskelia perché io considero bel giocatore a me piace come giocatore kwaraskelia dove kwaraskelia mamma mia che figura di merda cari amici napoletani ovviamente io conosco tanti tifosi napoletani che stimo ma dove sono quelli che ogni tanto saltano fuori col dito così siamo la squadra più forte d'europa mette mette il giuppotto perché fa meno 3 fa meno 3 fa meno 3 degli altri comincia a fare fa freddo dove sono dove sono loro mamma mia dove sono quei tre lì dove sono mamma mia oggi una figura di merda totale c'è poco da fare è caro antonio ora devi lavorare devi dare un gioco cose che non hai mai dato a stonare perché tu sei andato avanti solo di corsa di inerzia invece l'atalanta gioca oggi ha vinto il gioco del calcio non l'anticalcio ed è giusto così chiara andania andania grande dove non stai godendo non stai godendo oggi non stai godendo ebbe oggi sempre a lamentarti anche sul terzo gol che ovviamente questo è il vostro stile e vedo che ti sei lamentato tanto bene oggi ti sei lamentato caro conti lamentato di codi una spinta che hai visto solo tu nel tuo metaverso dico spinta di cosa tre a zero e silenzio muto silenzio muto muto che già pensavi di essere già il re d'italia e questo è un avviso anche a tutti quelli che tu dicevano Napoli da scudetto Napoli ha già vinto lo scudetto perché c'è Antonio Gonde eh ma Gian Antonio Gonde ha preso tre per in tuo culo ha preso tre perette nel culetto che dire oggi seppur per poco godo io ciao a tutti ragazzi sempre Forza Juve mettete un like al video e lasciate un commento ciao a tutti